Abracadabra, abracadift, fammi sapere se funziona il metodo cellulite. Ma cosa fai? Beh, interrogo la sfera magica per sapere se questo tuo sistema cellulite funzionerà anche con me. E sono un caso disperato. Non c'è trucco e non c'è inganno, segui il video insieme a me e così ti spiegherò perché. Ciao amici, quando parlo di eliminare la cellulite, molte donne mi scrivono che la loro situazione è complicata, impossibile. E molte mi chiedono se... Ma voglio capire, il tuo metodo funziona anche per una cellulite ostinata come la mia? Che sta lì attaccata e non se ne va? Beh, ci fanno credere che la cellulite si può eliminare applicando la crema trovata nelle riviste. E se non arrivano i risultati, allora vai con la dieta, gli allenamenti, i trattamenti estetici. Ma siccome per moltissime donne tutto questo non basta, si convincono di avere una tara genetica o di non essere abbastanza brave e non essere costanti, non faticare abbastanza contro la cellulite. Altri invece si rassegnano e gettano la spugna amareggiati. Ci rinunciano. E questo accade perché nessuno spiega che cosa bisogna fare veramente per eliminare la cellulite, cioè agire sulle cause. Questo è l'unico vero segreto e metodo anticellulite. Vi sembra incredibile? Non dovete credere a me. Ecco cosa dicono alcune delle centinaia di donne che si sono liberate della cellulite grazie al mio metodo Cellulift, basato sulla mia esperienza di naturopata e sui miei studi di oltre 25 anni. Intanto, se vi piace l'idea di eliminare la cellulite in modo veloce e naturale, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco le parole di Katia con la sua testimonianza. Con questo programma ho imparato come gestire la cellulite e quello che mi interessava era non fare più grandi rinunce. Ho scoperto il potere dello stile di vita e sicuramente dopo poche settimane mi vedo molta meno cellulite. Sono più sgonfia, mi sento meglio con il mio corpo, ho voglia di continuare e so che posso migliorare sempre di più. Lo dice anche Marina. Grazie Simona, è vero, ci voleva proprio la tua sinergia perché fare le cose senza sistema non ottenevo mai risultati. Uno stress che ora non ho più. La cellulite è davvero migliorata, si vede benissimo, ma non è solo questo. Ho imparato ad avere cura di me, a volermi bene, a amare il mio corpo, ad accettarmi e apprezzarmi e ne avevo davvero bisogno. Grazie ancora mi sento di nuovo me stessa. Vediamo cosa dice Giulia. Se devo essere sincera, non mi sentivo più a mio agio a indossare abiti corti e mettere un costume era fuori discussione. Ma con questo metodo ho smesso di rassegnarmi che la cellulite non se ne andava più via. Ho iniziato a vivere sano, come desideravo, a depurarmi e ora ricevo complimenti per il mio fisico molto tonico. Poi sto meglio in tutti i sensi e di questo volevo ringraziarti, anche meno pancia gonfia e i dolori del ciclo. Come ha fatto Alessandra, la soluzione non è cambiare vita, ma eliminare lo stress e soprattutto i suoi effetti negativi sulla forma fisica e la cellulite. Ah beh, dai, sono più sollevata. Niente più sfera magica allora? Ah no, quella mi serve ancora perché adesso voglio sapere come eliminare le cause della cellulite. Attenzione, perché questo è un altro degli errori comuni che capitano a molte donne. Ogni donna sa che per ottenere un vero risultato in qualunque campo della vita personale o professionale ci vuole esperienza maturata e vissuta in prima linea proprio sul campo. Con il fai da te difficilmente si ottengono risultati e se per caso qualcuno ci riesce è solo perché ha superato infiniti dubbi e ostacoli e anche fallimenti. Tutto questo da solo dovendo mantenere una fortissima costanza e motivazione fino a quando non arriva il risultato, quindi senza nessuna certezza. Proprio per aiutare le donne a eliminare la cellulite con una guida sicura e certa ho creato il mio sistema Cellulift, il videocorso che accompagna mano nella mano dai primi passi fino alla risoluzione del problema. Contiene il distillato dei miei 25 anni di esperienza professionale e le migliori strategie su alimentazione, esercizio fisico, rimedi drenanti e detossinanti, pulizia dell'intestino, meditazione per eliminare lo stress che genera cortisolo, nemico della cellulite, stile di vita, esercizi da fare a casa, automassaggio, spacca cellulite e molto altro che trovate nel corso. Prima di salutarvi vi ricordo che al videocorso ho aggiunto anche dei bonus, dei regali speciali che sarete sicuramente curiosi di scoprire, quindi andate a vedere nel link in descrizione la pagina che vi racconta tutto su questo corso, come è fatto, cosa contiene, come affronta il problema della cellulite partendo dalle cause e che cosa vi dà anche in più in omaggio. Link in descrizione. Non vi dico altro, andate a leggere, condividete questo video perché ci sono tantissime donne che stanno lottando disperatamente contro la cellulite, sono molto frustrate e tristi e amareggiate perché niente funziona e quindi aiutatele a trovare sollievo, a trovare una soluzione. Ah beh, e iscrivetevi anche al canale per seguire tutti i miei consigli per vivere in modo sano e naturale. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!